giorgia meloni non si sbilancia la partita per il quirinale è tutta da giocare in questo momento spiega in una intervista sky start è troppo presto per dire cosa penso su mario draghi al posto di sergio mattarella al colle non ho elementi per valutare compiutamente non so nemmeno se lui è interessato prosegue la leader di fratelli d'italia che annuncia i nomi ce li ho ma non li direi qui un anno prima detto questo ragiona la meloni dopo cento giorni il governo draghi mi sembra in enorme continuità con il governo precedente per quanto riguarda le elezioni amministrative non siamo per niente in ritardo si vota a metà ottobre i tempi ci sono l'importate è mettere in campo proposte competitive ci stiamo lavorando il racconto di un centrodestra diviso è poco ficcante e interessato e sulla matone candidata sindaca del centrodestra a roma ci sono diversi profili io non parto da una donna o da un uomo ma da una persona capace si stanno sodando sono molto contenta della capacità del centrodestra di aprirsi ho letto della matone di michetti ce ne sono altri le candidature vanno vagliate con serietà e con l'obiettivo di vincere sul centrodestra su uno scontro con matteo salvini la leader di fratelli d'italia parla di gioco interessato noi siamo insieme perché le nostre visioni sono compatibili per scelta io penso che al di là questa parentesi di questa fase transitoria il centrodestra sarà ancora più pronto a governare l'italia su chi deve fare il presidente del consiglio la regola c'è ed è efficace continua la meloni ho sentito letta dire che nella coalizione di centrosinistra la regola è che il premier è la persona indicata dal partito più votato la regola c'è e ancora per fare le cose di cui c'è bisogno in italia serve una maggioranza forte con idee chiare e un vincolo di alleanza forte non avrebbe senso per me e per il centrodestra lavorare uno contro l'altro ha aggiunto la leader di fd si ... !! !!! no non !!! H... !! O !! !!! !!! !!